La sala è vuota, desolatamente vuota, eppure è il ristorante cinese che arrende e lavora da 30 anni, considerato modello di integrazione. Il coronavirus ha spaventato i clienti e da giorni ormai nessuno barca la soglia del locale, le conseguenze facilmente immaginabili. Purtroppo chiuderemo per qualche giorno il ristorante. Licenziamento no, perché speriamo che questa sia solamente una situazione temporanea, per cui diciamo che hanno questo periodo di vacanza, nonostante effettivamente né noi né i nostri dipendenti hanno toccato il suolo cinese negli ultimi mesi. Ovviamente chi sta all'esterno ha questa paura, non solo nei nostri confronti, ma anche immotivatamente ha paura degli alimenti cinesi. Infatti molti discutono sull'origine di tutte le nostre materie prime, nonostante le nostre materie prime provengano da rifornitori italiani, infatti la nostra carne italiana, la nostra verdura italiana, tutto quello che si può reperire in Italia noi lo facciamo. Ciò che invece non si riesce a reperire in Italia ma solamente tramite rifornitori cinesi ha comunque passato i controlli da parte dell'autorità italiana e quindi sono del tutto sicuri. Teresa parla dell'azienda di famiglia, lei è nata e cresciuta in Italia, si sente più italiana che cinese, non ha mai avuto problemi. Oggi studia a Milano e in questi giorni ha vissuto sulla sua pelle quel brivido finora sconosciuto che è la paura, la discriminazione. Ieri ho preso un aereo nazionale da Milano Malpensa qui fino alla Mezzia e nel bus, nel tragitto tra la stazione di Milano Centrale a Milano Malpensa il posto di fianco a me è stato l'ultimo a riempirsi. Infatti con tutte le persone che mi mandavano un pochino di occhiatacce, chi controllava prima chi c'era seduto, appena vedevano che ero io, una ragazza quindi cinese, andavano avanti. Sul coronavirus le tante fake news generano un altro virus più difficile da combattere, quel pregiudizio che non risparmia neanche i bambini. Nei gruppi classe dei genitori di bambini che frequentano gli elementari, alcuni genitori abbiano richiesto a un bambino cinese di non venire più a scuola solamente perché aveva la febbre.